Can't you feel it? Lo senti? Lo sento! Lo senti? Lo sento! Lo senti? Lo sento! Lo senti? Lo sento! Nello Spam Stage, uno dei più grandi DJ della nuova generazione! Mi farà ballare, mi farà impazzire, è un grande artista, mi piace da passi. Oggi è sullo Spam Stage, il grande Albert Marcinotto! No, no, no! Ho, ho, ho! No, no! Ho!